buongiorno a tutti cripto curiosi andiamo a vedere questo asset ovvero l'assetto il token di a cash network andremo a vedere che cos'è che cosa non è ma intanto in sostanza soffermiamoci su questo grafico ragazzi come ben vediamo guardate guardate qui sul settimanale guardate la rsi e guardate la macd con il cambio trend del prezzo ragazzi è esploso questo asset facendo nel settimanale un bel andiamolo a vedere 59 per cento ragazzi ma prima di andare a fare un'analisi ragazzi andiamo a vedere subito che cos'è questo asset qui ragazzi eccolo qui a cash network a kt che nelle ultime 24 ore e nell'ultima settimana addirittura il 79 per cento come abbiamo visto un attimo qui un attimo fa sul grafico naturalmente dalla seconda candela settimanale abbiamo un quasi 80 per cento ma perché ragazzi è esploso così che cos'è potrebbe essere un progetto valido eccetera allora quello che vi voglio dire questo è il sito di a cash network che cosa fa cash network in sostanza ci diciamo che va a affittare spazio per data database all'interno di computer in modo decentralizzato ovvero invece di farlo magari in modalità centralizzato ok comprare degli spazi per sostanzialmente detenere dati su computer quant'altro lo vuole fare in modo decentralizzato quindi è come se noi andessimo ad affittare spazio per ogni computer diciamo in modo tale che tutto questo spazio avviene in modo completamente decentralizzato in sostanza il progetto punta ad essere questo qui abbiamo tutto quanto il sito che dopo andremo a vedere ma torniamo un attimo indietro ragazzi fatemi fare il flash della pagina eccolo qui nel in questa giornata ragazzi vediamo benissimo che il questo asset ha diciamo performato il più 53 per cento come vediamo bene dal grafico se lo vediamo in sostanza qui su coin market cap ma dopo andremo a fare un'analisi pochettino più dettagliata possiamo vedere benissimo che abbiamo uno storico con un all time high che in questo momento è possibile che venga superato ok andiamo a vedere subito abbiamo l'all time high di 8 dollari quindi ad ora è a 6,34 dollari e l'all time low di 0,16 centesimi prima di continuare però ragazzi mi sono dimenticato importantissimo canale telegram link qui sotto a giorni vorrei aprire dei topic riguardanti il mondo delle cripto valute per confrontarci sui progetti progetti vali di ex novo meme pre sale eccetera 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 vi lascio i link dei miei due exchange preferiti tra cui c'è mxc che ancora possiamo utilizzarlo senza che qui si anche per fare andare a trading a fare trading in leva e bitcat naturalmente ragazzi attenzione come sempre al mondo delle cripto valute questo non è assolutamente un consiglio di investimento io non sono un consulente finanziario ma andiamo a vedere questi asset in sostanza che cosa sono ok quindi per dare anche un valore in più in un informazione alla alle persone che comunque sia si vogliono approcciare anche a tutti questi progetti del mondo le cripto valute che ce ne sono veramente veramente tanti allora torniamo a noi siamo su una market cap del 65 esimo posto quindi ok diciamo che è una market cap ok diciamo non siamo sulle ai cap però comunque sia è una posizione buona un volume nelle ultime 24 ore ragazzi andiamolo a vedere subito comunque sia eccolo qui 132 milioni 49 mila dollari che ha totalizzato il più 3 184 per cento ok quindi diciamo un asset vivo ok possiamo definirlo così e abbiamo una total supply 234 mila 400 milioni 426 mila 429 a kt la max supply di 388 mila 008 a kt e in circolazione ce ne sono 234 milioni e 426 a kt ok quindi questo è l'asset listato diciamo sui su alcuni exchange andiamoli a vedere tra cui molto importante abbiamo varie notizie che ci riportano che questo token praticamente c'è il listing questo articolo di oggi c'è il listing su up bit ok up bit è un exchange mi sembra coreano nordcoreano se non sbaglio comunque sia il sito è questo qui quindi ci sarà questo listing su questo exchange quindi diciamo che forse il grafico la fome tutto quanto forse è derivante da questa notizia questo è un exchange ragazzi andiamo a vedere subito su coin market cap della corea del sud ok non corea del nord ragazzi attualmente up bit è il più grande exchange di cripto volute la corea del sud per volumi di scambi quindi stiamo parlando di un di un exchange comunque sia importante riguardo la corea del sud e l'azienda ha registrato una crescita esponenziale a tre mesi dal suo lancio grazie all'aiuto del suo partner americano l'exchange cripto volute bitrex ok qui abbiamo i fondatori abbiamo quant'altro comunque un exchange che sta muovendo sullo spot volume di trading ben lo vediamo benissimo mi sa milioni 4 miliardi e 101 milioni eccetera in euro in controvalore in euro ok mettiamolo in dollaro eccolo qui è in sostanza 67 e virgola 257 bit coin quindi ritorniamo su a cash network fatta tutta questa quanta premessa qui qui abbiamo il sito come mi ho fatto vedere prima abbiamo riguardo il development la community l'ecosistema e quant'altro ok qui in sostanza quello che ho visto abbiamo anche una sezione development c'era una sezione marketplace la stavo visionando prima ora non ricordo bene dove sono andato però comunque si abbiamo tutte queste sezioni qui dove praticamente ci vanno a spiegare in termini tecnici tutto questo progetto qui ragazzi ok quindi a cash una rete aperta che consente agli utenti di acquistare e vendere risorse informatiche in modo sicuro ed efficiente realizzato appositamente per pubblica utilità esplora le risorse di rete i prezzi verifica le disponibilità legge più esplora i prezzi andiamo a vedere prima avevo visto un marketplace molto interessante ecco qui qui abbiamo tutto quanto diciamo queste sono schede grafiche in sostanza disponibili e i vari prezzi però ok non riesco a trovare proprio il market spesso di prima ma va bene quindi fornisci calcolo e guadagni distribuisci a casco un solo comunque sia è quello che vi ho detto prima in sostanza vuoi vogliono creare un database decentralizzato sui vari computer ok quindi community telegram a 113 mila follower ragazzi community attiva ok molto molto attiva telegram 10mila e passa follower ma ora andiamo a vedere magari quello che ci interessa anche un pochettino di più a noi prima di andare a vedere le varie block chain su letters can pollico star scan un attimo gli odlers di questo token quindi allora qui in sostanza siamo sullo storico di questo token qui ok allora andiamo a vedere siamo sul settimanale ragazzi importante diciamo sul giornaliero ecco qui abbiamo questo candelone verde ragazzi che vi ho fatto vedere prima ora andiamo a cancellare un attimo così andiamo a spiegare bene tutto quanto abbiamo questo a questa forte esplosione che forse potrebbe essere dettata dalla notizia di abit di questo exchange quindi il listing su questo exchange dove diciamo vediamo i volumi sono esplosi ok esplosione dei volumi dopo una diciamo una consolidazione eccola qui qui abbiamo una consolidazione qui ok di prezzo e esplosione ok quindi cosa diciamo confermata anche naturalmente rsa iper venduto e dal mac di che c'è un trend e c'è stato il trend di cambio di prezzo la mac di praticamente ce lo segnala ce lo può segnalare anche prima quando vanno incrociare queste medie mobili eccolo qui c'è stato l'incrocio qui praticamente ragazzi ed ora siamo in super iper comprato facendo esplodere questo asset diciamo con una percentuale del 50 53 ok sul settimanale anche 58% come abbiamo visto prima quindi in sostanza andiamo a vedere questo asset che effettivamente tutto lo storico stiamo parlando di uno storico che va dal 2022 questo asset qui è stato effettivamente un asset molto dormiente in questa fase qui ok il prezzo possiamo dirlo a quasi lateralizzato tranne tranne naturalmente se lo vediamo con un grafico un po più ampio capiamo bene che qui ci sono stati varie consolidazioni qui a rotto una trend line in modo fortissimo poi si è formato si è formato un'altra trend line un'altra grossa consolidazione siamo sul giornaliero naturalmente anche se vediamo sul settimanale stessa cosa vedete magari lo vediamo meglio sul settimanale per quanto riguarda lo storico qui ha rotto qui ha rotto qui ha rotto totalizzando comunque sia delle percentuali a quanto che simili se vediamo i grafici più o meno qui si parla del 215 per cento più o meno e quasi dovrebbe parlare del 105 qua di meno 156 150 ok e ora faccio un calcolo approssimativo ragazzi ok naturalmente bisognerebbe andare a prendere tutte le candele in modo preciso qui naturalmente c'è stato incremento anche qui 140 per cento ok qui altra consolidazione eccola qua questa qui e poi esplosione del prezzo che nelle ultime diciamo negli ultimi come possiamo ben vedere parliamo dal periodo del 2023 lunedì 13 novembre 2023 fino a lunedì 4 marzo 2024 c'è stato un forte interesse per questo asset ok stiamo parlando di comunque sia ha totalizzato in quasi di novembre ok per po di mesi un quasi 500 per cento ora che sta succedendo ragazzi sta succedendo questo dopo un trend ribassista eccolo qui dopo questo trend qui ribassista di molte settimane 1 2 3 4 5 5 settimane qui il prezzo in questa settimana ha consolidato per poi ritrovarci ad oggi che questo diciamo il prezzo ha fatto un boom pazzesco e naturalmente se andiamo a vedere la MACD è possibile è possibile è possibile che questo trend comunque sia continui ok quindi è possibile anche se poi effettivamente sull'RSI ci troviamo in zona di iper comprato ok quindi sicuramente il prezzo secondo me lateralizzerà per un pochettino andando comunque sia avendo sempre comunque sia un trend un po rialzista ok quindi questo è quanto abbiamo visto lo storico di questo asset che è molto interessante ragazzi praticamente appena usci il progetto tanto tempo fa quindi chi ha creduto in questo progetto qui o qui o anche qui ok o qui ad oggi si è trovato diciamo a totalizzare andiamo a vedere subito a totalizzare un bel 1000 ad oggi 1443 per cento ragazzi ok quindi detto ciò andiamo ora a vedere ritorniamo sul progetto andiamo a vedere riguardo le ecco si vi dovevo dire dove possiamo trovarlo ecco andiamo a vedere quello che ci balza il più all'occhio non lo troviamo su Binance ok su Binance non c'è ancora questo asset e lo troviamo su gate.io Kraken, Kucoin, Kucoin, Kucoin Exchange, Crypto.com che comunque sia è uno degli exchange diciamo importantissimi nel panorama crypto e sui perpetual future solo su gate.io per quanto riguarda i decks invece osmosis ci giura fin che non lo conosco questo decks qui kawaswap eccetera 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 allora quindi andiamo a vedere un attimo nell'etherscan nelle chain andiamo a vedere che questo token su etherscan ha 823 holders che sono veramente pochi e abbiamo smart contract polygon e tutti gli altri indirizzi comunque sia questi i primi cinque detengono una quantità più grande di token e trasferimenti su questa chain l'ultima di 20 minuti fa andiamo su polygon scan holders 833 ok quindi quasi uguali a etherscan e trasferimenti 6 minuti fa l'ultimo il penultimo un'ora fa holders abbiamo questi indirizzi qui abbiamo questo indirizzo qui che detiene ad ora l'8,39% poi abbiamo indirizzi con il 5 con il 4 il 3 comunque sia abbiamo pochi holders quindi non si possono fare delle stime accuratissime siamo su mint scan ragazzi qui invece ci sono 12.436 holders con ecco qui con un totale di valore in token questo portafoglio per esempio ha detiene 1.898.670 token cioè controvalore in dollaro e a 300.898 token quest'altro portafoglio sempre più o meno la stessa cifra insomma abbiamo questi primi 1,2,3,4,5,6,7 indirizzi che detengono effettivamente una quantità maggiore qui su mint scan eccetera 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 supply e quant'altro market cap eccetera abbiamo visto queste cose quindi c'è questo listing da parte di upbit di questo exchange come vi ho detto prima e in sostanza in sostanza andiamo a vedere qualche previsione ma da prendere sempre con le pizze questo è un articolo che stavo vedendo prima di oggi di oggi gli ultimi sette giorni più 68% un mese più 14 12 mesi addirittura un 2.051% non si sa ragazzi naturalmente questi sono le previsioni per il 2025 per esempio a 11 dollari quindi in sostanza sarebbe quasi un per due da ora 2026 16 dollari 2027 21 dollari ecco questa potrebbe essere una previsione diciamo beritiera ok non campata per area visti anche gli importi quindi ritorniamo a noi sul token ripetere anche qui su questo articolo AKT è il token principale utilizzato dalla cash network a molteplici ruoli e i casi d'uso per a cash network token vengono messi staking per proteggere la rete a cash ciò aiuta a aumentare la sicurezza della rete e fornire un flusso reddito passivo per coloro che scommettono che hanno sui propri token staking titolari token AKT possono partecipare alla governanza della rete agisce come valuta privata all'interno della rete a cash e del più ampio ecosistema cosmos AKT viene utilizzato per incoraggiare i comportamenti vantaggiosi per la rete i fornitori sono incentivati a offrire prezzi più bassi eccetera bla 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 naturalmente quindi ragazzi abbiamo visto questo asset qui che è totalmente esploso se andiamo a vedere ecco gli ultimi top gainer dei 7 giorni ma anche delle ultime 24 ore e dell'ultima ora ragazzi troviamo questo asset qui vi ho spiegato ad oggi nel modo migliore possibile siamo andati a vedere la cash network io vi ricordo come sempre lasciate un bel like condividete questo video alle persone interessate venite all'interno del gruppo telegram cosa molto importante perché a giorni vorrei aprire questo maledetto topic sul mondo delle criptovalute vi lascio tutti i link del caso in descrizione exchange e quant'altro ragazzi noi ci salutiamo qui bella vita a tutti ciao